Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Inizio il video con il dire un grandissimo grazie a chi mi ha fatto il regalo. Io non so chi sei, ma so che mi hai lasciato senza parole. Mi hai mandato nel pallone più totale. Non so cosa dire, non so chi ringraziare, non so nulla. Ti prego, fatti viva perché voglio ringraziarti. State pensando che sono impazzita, no, non sono impazzita. Dovete sapere che nelle ultime settimane ho fatto degli acquisti di perline ovviamente e in un pacco ho trovato un coupon sconto riservato a me. Ho chiesto a Graziana, perché appunto questo coupon era nel pacco di perline e gioielli, ho chiesto a Graziana informazioni e mi ha detto solamente che c'è una persona che vuole rimanere anonima che mi ha fatto questo regalo. Adesso io non so chi è, ho varie idee in mente, però sinceramente a mandare messaggini per chiedere se è stata tu, se è stata tu, mi sembra poco carino e quindi io colgo l'occasione per ringraziarti da qui, da Facebook, ma vorrei farlo di persona, quindi ti prego, fatti viva, fammi sapere chi sei, ti prego. Bene, io ancora grazie e spero soprattutto di vederti partecipare al contest perché sono qui appunto per spiegare il nuovo contest di cui ho già parlato qualche, ho dato qualche anticipazione sul blog e nel gruppo. E quindi adesso vi spiego in cosa consiste il contest. Allora, il contest è ispirato al matrimonio del secolo, forse ho un po' sparato con questa parola, però il matrimonio di Harry e Meghan. Allora, perché mi è venuta questa idea? Perché non so se avete mai notato i cappellini che indossano le donne che vanno a queste cerimonie oppure in altre occasioni come nelle partite di polo. Ecco bene, a questi cappellini ho deciso di farvi realizzare dei bijoux da abbinare appunto a questi cappellini. Scusate, oggi ho fatto un giro di parole, ho capito malissimo, quindi lo ridico. Ho deciso che dovrete realizzare un bijoux da abbinare a questi cappellini. Come dovrete fare? Allora dovrete andare sulla galleria di Google e scegliere un cappellino appunto, quello che vi piace, che vi attira per colore o come preferite. Scegliete questo cappello e guardando il mio canale YouTube, il mio blog oppure il mio shop Etsy, realizzare un bijoux da abbinarci. Potete realizzare degli orecchini, un ciondolo, un bracciale, quel che volete. Anelli no perché non ne faccio, quindi no. Ovviamente dovrete rispettare il colore del cappello, se scegliete un cappello blu dovrete fare il bijoux sull'azzurro, vabbè però queste cose già penso che le immaginerete da sole. Deve essere abbinato a questo cappello. Potrete per questo contest potrete realizzare una sola creazione, quindi scegliete quella che più vi sembra adatta all'occasione e realizzatela. Come dovrete presentare la foto? La foto va presentata con un collage, in pratica dovrete fare su un fondo bianco la foto, quindi il ciondolo esclusivamente sul fondo bianco, quindi magari mettete dietro un foglio bianco e fate la foto. Oppure, appunto, questo per quanto riguarda senza firme, mi raccomando, questo per quanto riguarda i bijoux. Per quanto riguarda il cappello, preferirei avere la foto che non sia indossato, cioè il cappello senza la persona. Questo perché poi avrei problemi a pubblicarla nel blog, visto quello che sta succedendo con queste notifiche sulla privacy. Quindi sarebbe preferibile solamente il cappello. Dovrete mettere da una parte il cappello e dall'altra il bijoux. Mettendo una semplice cornicetta bianca potete andare su Canva e farlo tranquillamente. E questo per quanto riguarda la foto, mi raccomando, non firmata. Le foto andranno inviate alla mail che vi scriverò qui sotto e solo alla mail. Non terrò conto di quelle che arriveranno tramite messaggio o tramite messenger perché volta scorsa ne ho persa una molto importante perché era anche una bella creazione. Sinceramente mi dispiacerebbe che accadesse di nuovo. La cosa particolare di questo contest sarà la votazione. La votazione sarà articolata in due fasi. La prima fase è dedicata solamente alle partecipanti al contest. Ad esempio, siete 10 partecipanti, voterete le 10 creazioni solamente voi 10. Per votare avrete a disposizione la tabella da 1 a 10. La vincitrice di questa prima votazione riceverà un premio che sarà del materiale creativo e sarà appunto la prima vincitrice. La seconda vincitrice invece sarà decisa dal pubblico che voterà tramite i like come si usa generalmente. Tutto questo avverrà nel gruppo semplici creazioni community. Avevo detto che sarebbe stato archiviato, non l'ho più archiviato perché mi sembra doveroso per chi realizza i miei tutorial, che magari chiede informazioni e quindi mi sembra carino tenerlo aperto più che mai per quello. Nei giorni del contest metterò delle domande e voi, chi ancora non è iscritto e vuole iscriversi, mi devi rispondere? Sto partecipando al contest, altrimenti non verrà ammesso al gruppo. Che cos'altro dire? Questo perché vorrei che vincessero le creazioni e non le persone che hanno creato, come sempre. Per non sentire polemiche ho deciso questa cosa della doppia votazione. Spero sia gradita anche a voi. Se non vi è gradita, per favore evitate di fare polemiche inutili perché tanto una volta che ho fatto cosa fatta, capo A dice la mia nonna. Quindi, ripeto, le due creazioni riceveranno del materiale creativo e ci sarà una piccola sorpresa per tutte le iscritte al contest. Non vi dico di cosa si parla, di cosa si tratta però e lo scoprirete solamente poi. Per adesso ho detto tutto. Troverete tutto scritto nel blog, troverete tutto scritto preciso con tutte le date da rispettare, cosa fare, cosa non fare e troverete anche il tutorial dei nuovi orecchini. Ecco che devo ancora mettere il gancio e con cui potrete anche volendo, potrete anche partecipare al contest. Per adesso vi saluto, ringrazio ancora l'amica anonima che mi ha inviato il regalino e ci sentiamo prestissimo. Buona giornata a tutti!